appunto dire io qua divido a metà l'anca se io sono in una situazione edematosa io metterò una base qua e vado giù e faccio un drenaggio linfatico giusto metto una base qua vado giù e faccio un drenaggio linfatico la mia cicatrice è stabilizzata e ho fatto un decompressivo articolare ok ho strappato la carta adesso faccio una faccio una tensione verso l'alto ma cosa posso fare anche la faccio flettere lateralmente nel centro che avevo stabilito che era questo vi ricordate io qui avrei potuto fare due traiettori e quindi con questa parte cosa faccio devo drenare e quindi faccio il drenaggio a meno che non deve gareggiare se devo gareggiare gli faccio una spinta faccio una spinta faccio una spinta Grazie a tutti.